A Gaeta fino a domani si svolge la Kermesse dei giovani di Forza Italia nel nome di Silvio Berlusconi. Tra i tanti leader presenti, il segretario nazionale Tajani e Maurizio Gasparri. È Gaeta ad accogliere fino a domenica la festa dei giovani di Forza Italia nel nome di Silvio Berlusconi, nel nome dei valori e degli ideali di una straordinaria storia politica e umana. I ragazzi giunti da ogni parte d'Italia, i leader, il segretario Tajani, Maurizio Gasparri, che della Kermesse è ideatore e organizzatore. Per dire che Forza Italia c'è, ci sarà, decisiva nel centro-destra, movimento fondatore del centro-destra, il berlusconismo, ci sarà come il gollismo in Francia, con alti e bassi, vittorie e sconfitte, c'è stato, c'è, ci sarà, oltre ai leader fondatori, il loro messaggio, il loro progetto, c'è nella politica del loro paese. I lunghi applausi tributati a Silvio Berlusconi, canti, gli inni e la proposta di idee in laboratorio politico, c'è la lettera inviata da Marta Fascina che incoraggia a continuare un cammino innanzitutto ideale. Forza Italia come forza di governo, atlantista, liberale, occidentale, che lancia la sua proposta per il futuro. Forza Italia va avanti, Forza Italia è il movimento fondato da Silvio Berlusconi, i grandi uomini non scompaiono con la fine della vita terrena, ma se hanno delle idee, hanno dei progetti, quelle idee camminano sulle gambe di tutti coloro che hanno creduto in noi, di tutti coloro che credono nei nostri valori. Devo dire che questo numero considerevole di giovani che sono venuti dappertutto dà l'idea della vitalità del nostro partito. Forza Italia c'è, c'è con la passione, con le iniziative, col coraggio delle idee che sono proprio dei giovani.